Poi ci sono i dati sull'occupazione. Noi abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l'Italia, abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 17 anni, crescono i contratti stabili, diminuisce il precariato e crescono i lavoratori autonomi, che è un altro elemento molto importante, perché vuol dire che sempre più gente è pronta a mettersi in gioco.